Qui si formano le coppie in area di rigore Sarda, arriva la palla nel mezzo, allontana di testa Cepitelli, tiziona la ripartenza del Cagliari con Sau, prova a sfruttare la sua velocità, Martella non lo tiene, alza la testa Sau, vuole la palla nel mezzo ma erano in ritardo sia Di Gennaro che Borriello, Isla recupera, ancora Sau, Taxidis, il movimento di Di Gennaro ancora per il greco, ancora Di Gennaro, vuole la conclusione alla rete, Di Gennaro, vantaggio Cagliari, minuto numero 38, la sassata del numero 8 rosso-blu, nulla da fare per Cordazza, un lampo alla Sant'Elia, lo splendido gol di Di Gennaro, prima rete in stagione per lui e si sblocca il risultato a Cagliari, rivediamo, qui però troppo spazio gli hanno lasciato i giocatori del Crotone, ha mirato il palo di sinistra, palla che è rimasta bassa e che ha beffato Cordazza, a Cagliari, rivediamo,